Dopo due settimane di lezioni di interpretazione vocale, musicologia, arte scenica e masterclass, la 36esima edizione dell'Accademia Rossignana Alberto Zedda si chiude questa sera, lunedì 15 luglio alle 20.30 al Teatro Rossini, con il consueto concerto finale nel corso del quale gli allievi, accompagnati al pianoforte da Ruben Sanchez Vieco, interpreteranno pagine del repertorio operistico rossignano. Questo il programma che innesca un Festival Giovane 2024 presentato nella cornice di Villa Meuccia Severi. Questa è stata una felicissima intuizione da parte di Alberto Zedda, creare questa Accademia, cioè pensare al futuro le nuove generazioni che devono soprattutto amare Rossini e poi cantare bene. Qui quest'anno abbiamo praticamente l'ONU perché sono da tutte le nazioni, abbiamo solo quattro italiani, ci sono quattro russi, due spagnoli, ci sono giapponesi, cinesi, giorgiani, olandesi, un po' tutto. Dall'Accademia si apre un Festival Giovane che proseguirà con la rassegna Salon Rossini e la partecipazione ai concerti al museo. Sono sei piazze diverse della regione Marche e cinque concerti al museo, ma anche la seconda settimana già ci siamo immersi nel Viaggio Rems che è l'opera che loro faranno durante il Festival. Festival Giovane che da tre anni è sostenuto dalla Fondazione Meuccia Severi. Le motivazioni sono veramente, da un certo punto di vista, se vogliamo, quasi semplici, nel senso che si coniugano i giovani, come sono appunto gli allievi tutti gli anni dell'Accademia Rossignana, l'arte, in questo caso il bel canto, ma che si sposa benissimo con quello che è la Fondazione Meuccia Severi, incentrata su una collezione d'arte fantastica di pitture e sculture e il legame con il territorio, che per noi è importantissimo, però anche l'internazionalità appunto dei ragazzi che vengono da tutto il mondo e il cui lavoro è premiato tutti gli anni con un seguito e un entusiasmo incredibili.